Il governatore della Toscana Rossi ha disdetto la visita di oggi di fronte alla Becchert per impegni sopraggiunti, spostato a data da destinarsi. Dal lunedì intanto si riapre il tavolo della trattativa in regione. Slitta a Natale l'inaugurazione della nuova scuola elementare di Faella, motivo una variante in corso d'opera per il consolidamento dei timpani sui quali appoggia la copertura. Lavori comunque in corso. Dario Nardella fa il punto della situazione nelle infrastrutture viarie della città metropolitana di Firenze. Attiva un dispositivo chiamato Bridge per tenere sott'occhio circa 200 punti del territorio. Alto in estate il numero di abbandono dei cani. Alla canile del Forestello a Cavriglia ne sono arrivati 30 in due mesi e oltre 300 quelli soccorsi per strada. Molti i cuccioli in cerca di una nuova famiglia. Il comune di Figline incisa festeggia il primo settembre ai 25 anni del gemellaggio con la cittadina tedesca di Punskastad partito nel 1993. Delegazione germanica in visita a Figline incisa. E feste del perdono anche per il comune figlinese incisano dal 31 agosto al 4 settembre. La 46esima edizione del Paglio di San Rocco, il clou degli appuntamenti di quest'anno. Al via il 30 agosto il perdono a Montevarchi, iniziative fino all'8 settembre, lanterne volanti al posto dei fuochi d'artificio finali. Il gioco del pozzo con la rievocazione storica al centro della manifestazione.